Tiziano Barizza Ciao a tutti Per chi non mi conosce sono un freelance da poco tempo, meno di due anni mi occupo di consulenza di innovazione di ambito informatico, tecnologico con un po' di taglio anche su aspetti di organizzazione, processi e così via più vicino, grazie allora, innanzitutto volevo condividere prima di andare nel nocciolo con voi due cose di cui mi sono reso conto in questa mattinata, in questi due giorni una è che finalmente ho capito perché forse sono ultimo in questa scaletta che giuro che nel momento in cui ho visto la scaletta ed ero ultimo dicevo, caspita, cioè è un po' così resti con l'ansia, la tensione fino alla fine poi magari tutti saranno stanchi, eccetera in realtà, diciamo, mi sono reso conto che diventa un po' un mettere insieme varie cose che poi sono venute fuori in questi due giorni e che qui trovano effettivamente l'altra cosa è che dall'intervento di Elena stamattina ho capito che in effetti la mia scelta di fare il freelance può essere inquadrata in quella del downshifting nel senso che lo schema era quello di cercare di ridurre la tensione precedente di certe attività detto questo, questi aspetti anche cerco di riportarli in queste indicazioni che vi cerco di dare stamattina allora, il tuo lavoro digitale è sempre portata di mano cosa significa questo? abbiamo visto in questi due giorni che ormai tantissime sono le attività che tutti noi facciamo e che alla fine hanno un connotato molto digitale cioè si è parlato di cloud molto più di quello che si faceva un po' di tempo fa tante attività, gli interventi fatti per anche la creatività online, eccetera si basano su attività oggi ormai digitali allora come fare per cercare di risolversi un po' i problemi della gestione di tutto questo parto da una fotografia che riprende dal freelance camp di Roma dell'anno scorso che per me era il primo in cui c'ero in cui probabilmente tanti di voi avranno partecipato anche a quel questionario che era stato diffuso in cui emergeva questo cioè il fatto che un'elevata percentuale di noi sostanzialmente condivide file utilizza il cloud utilizza la videocomunicazione anche se un po' meno di quelle percentuali da 85% così ha necessità di programmare le proprie attività ha una serie di esigenze che sono legate alla gestione di attività in digitale sostanzialmente l'ultimo punto lo vedremo un po' più avanti allora cosa significa questo significa che il lavoro che è sempre che diventa e che ormai è sempre più digitale comporta questi aspetti cioè abbiamo sempre più strumenti le app le qualsiasi soluzione che esce quasi quotidianamente a volte siamo presi e portati anche a vedere ma forse può essere utile per me e così via le piattaforme che ci sono cloud o non cloud eccetera sono sempre più in crescita aumenta la nostra attività con le mail cioè lo scambio di mail cresce esponenzialmente anche se qualche anno fa si diceva che bisognerebbe chiudere questo tipo di canale e i files quindi tutto quello che noi facciamo a livello digitale si traduce sostanzialmente poi in files tutto questo ha un impatto l'impatto è che mediamente alza il livello di confusione se uno non è così diciamo ben un po' centrato nelle sue cose e si organizza un pochino il rischio di confusione se lo ritrova quasi quotidianamente e diminuisce proporzionalmente il tempo che abbiamo a disposizione per fare altre cose perché dobbiamo cercare consultare verificare tutto quello che ci arriva cercare di trovare cose che non sappiamo più dove abbiamo messo e così via questo ci richiederebbe da un certo punto di vista di cambiare atteggiamento di cambiare modalità di lavoro e così via ma la paura di cambiare cioè di usare strumenti diversi di usare modalità diverse ci frena perché spesso la paura è quella di di non essere più focalizzati sulla cosa che stiamo facendo il perdere tempo perdere informazioni perdere dati e così via alla fine quindi noi vorremmo ci piacerebbe avere tutto a portata di mano ma la realtà dei fatti è che poi in tantissime situazioni ci troviamo a cercare nell'email perché me l'aveva mandata l'ho archiviata l'ho scritta da qualche parte l'ho messa ecco quindi questa è la nostra situazione spesso allora da questo punto cosa si può fare proviamo a così molto velocemente cercare di individuare alcune cose che sarebbe utile che ci fossero nel nostro modo di organizzare il lavoro quindi allora immaginiamo di poter avere un ambiente ordinato organizzato cioè che questa cosa sia possibile non è sempre così facile ma immaginiamo anche di poter usare gli strumenti che conosciamo questo è una delle diciamo garanzie che spesso si cerca di non perdere per nel portare avanti il nostro lavoro usare strumenti nuovi significa impararli e così via l'altro giorno parlando con un'altra persona mi diceva ah guarda faccio formazione il grosso della formazione che mi viene ancora richiesta per il 98% di un certo ambito è su Excel cioè strumenti che sono noti eccetera ma dei quali si vuole approfondire perché non si vuole cercare altre strade e l'altra cosa che in questo insieme ci piacerebbe trovare in maniera molto facile con un click è quello che ci serve nella maggior parte dei casi ma andando anche un po' oltre magari ci piacerebbe anche poter adottare la nostra organizzazione dei contenuti cioè ci sono prodotti nel mercato che ci permettono di organizzare tutto il nostro ambiente ma alla fine della fiera hanno sempre una loro impostazione un loro schema di lavoro eccetera che dobbiamo imparare ecco che entriamo nel meccanismo di dover imparare altre cose nuove e sarebbe interessante la possibilità di cambiare questo modo di organizzare i contenuti quando lo vogliamo quando abbiamo la necessità perché cambia la nostra tipologia di clienti o di lavoro che facciamo e così via allora altra cosa che diciamo è altro elemento fondamentale per l'attività di oggi sostanzialmente è la possibilità di poter portare tutto con noi voi potreste dire certo ma io mi porto sempre il mio bel computer ho tutto con me ho il mio hard disk di copia eccetera ma la cosa non sempre funziona e non sempre è così funzionale quindi poter avere tutto in maniera molto più agevole a prescindere anche dal mio computer potrebbe essere un elemento aggiuntivo che facilita il nostro lavoro vorrei aggiungere un elemento in più in questo ragionamento che è venuto fuori anche dalle considerazioni di questi due giorni dei vari interventi che sono stati fatti per sostanzialmente collaborare cioè lavorare in team lavorare con i clienti eccetera lavorare con i nostri clienti con i nostri partner eccetera è sempre più una realtà dei fatti e questo ci richiede ci viene richiesto oggi di farlo sostanzialmente sempre più online sempre più in condivisione di contenuti ecco che allora diciamo ci possiamo effettivamente cominciare a spostare da un concetto che diciamo come letteratura classicamente viene definito business to business in cui siamo inseriti noi hanno qualcosa che dal mio punto di vista si sta cominciando a spostare in un'ottica che è di integrazione business in business cioè la mia attività è strettamente correlata con quella del mio cliente e quella del mio cliente comincia sempre più a essere correlata con la mia allora è utile che ci siano anche strumenti per poter gestire in maniera più facile questa collaborazione questo scambio allora cosa serve per farlo andiamo un attimo nella sostanza sempre da quelle indagini dell'anno scorso fatta quindi in questo tipo nel nostro tipo di mondo il 97% di noi usa gmail quindi ormai è un dato di fatto se prendiamo le statistiche a livello nazionale danno il 121% cioè ognuno di noi anche a livello professionale eccetera ha più di una mail gmail allora questo significa che noi abbiamo già siamo già titolati a utilizzare perché la usiamo dei prodotti che nel mondo google sono già disponibili molto spesso non li conosciamo non sappiamo che ci sono nelle nostre disponibilità delle app tutti magari siamo più abituati a usare il drive google drive meno forse il google sites quindi quell'ambiente che ci permette di costruire non i siti internet alla wordpress ma ci permette di costruire degli ambienti che sono facilmente disegnati e tarati su quelle che sono le nostre esigenze questo con un uso un po' più accorto di altre applicazioni che ci sono nel mondo google il jamboard per fare condivisione di contenuti grafici eccetera ma altri gli spreadsheet che sono stati più oltre richiamati la scrittura contemporanea la possibilità di scrivere in diciamo in tempo reale da più punti da più persone in estrema velocità e sincronismo sono effettivamente delle cose che possiamo usare e ce le abbiamo quindi nel cloud sostanzialmente ci siamo già tutti noi allora cosa è possibile realizzare qui vi porto due o tre esempi di diciamo sono delle schermate di diciamo di un'applicazione che si può fare attraverso sites usando google drive e usando le altre applicazioni che ci sono che sono state realizzate anche per qualche altro caso freelance per piccole aziende quindi non le grosse strutturate che si prendono i prodotti mega per gestire queste cose e sono cose che possiamo fare noi ce le possiamo autocostruire sostanzialmente quindi in questo esempio dico questo è uno schema che uso anche per il mio lavoro un po' a meno effetti grafici perché come al solito il calzolaio ha le scarpe bucate però dico io qui posso individuare quella che è la mia area di lavoro il mio sito la mia rete cioè gli agganci diretti delle cose che vado a fare un menu che mi sono costruito perché è in base a quello che per me è diciamo le cose importanti sulle quali devo lavorare se prendo questa è un'altra videata costruita sempre con con sites in cui dico io ogni giorno cosa faccio ogni giorno utilizzo questo tipo di strumenti perché ho bisogno di gestirmi la mail di videochiamare di usare le pack di usare l'ambiente dropbox piuttosto che i cloud e così via o di pianificare ognuno con i propri strumenti che sia il trello tutti quelli che sono stati citati oggi ce ne sono vari e così via quindi questo può essere uno schema che mi facilita non devo più io dicevo prima il ragionamento del downshifting perché sono in una situazione in cui dico l'età è tutto il mio sforzo per cercare di fare quello che devo fare deve abbassarsi il più possibile per cercare di concentrarmi nel nocciolo dell'attività che devo fare quindi non voglio stare lì a cercare ah sì questo ce l'avevo in questo link di a qualche parte eccetera no ce l'ho lì visivo clic e vado altro ultimo esempio di suggestione così di soluzione dico se lavoro per progetti mi costruisco una pagina dove ho i miei progetti principali e dove magari per ogni progetto che devo seguire che mi dura un certo tempo non una cosa che mi dura due giorni mi costruisco una pagina che magari condivido anche con il cliente anzi posso costruirmi anche un mini sito con veramente diciamo 10 clic quasi a volte nel senso che è in maniera molto facile e posso decidere di condividerlo col cliente e di dargli un'immagine molto più personalizzata visto che stiamo parlando anche nei vari interventi di cercare di entrare in relazione molto anche cardio se vogliamo da un punto di vista di quello che è appena stato detto con il cliente ecco che io posso realizzare un qualcosa che poi do a lui per gestire le cose che deve fare con me allora per citare qualche esempio due proprio rapidi dico questi sono due casi effettivamente diciamo messi in piedi messi allora dico l'esigenza di un visualizzato voglio organizzare tutti i materiali di uso frequente bene sono state fatte delle pagine di catalogazione specifiche secondo il suo schema di lavoro voglio poter presentare le soluzioni in modo personalizzato al cliente perché quando vado lì non voglio sì guarda c'è questo dopo però aspetta aspetta che questo ce l'ho su un altro punto lo cerco nel directory e così via no questo diventa diciamo poco bello anche con il cliente e diciamo da un'immagine un po' tra virgolette un po' più caotica allora in questo caso state fatte delle pagine sites proprio dedicate visibili al cliente altra situazione in cui c'era proprio l'alternativa all'hard disk per accogliere tutto il materiale perché ho sempre limiti e poi c'è l'aspetto l'ho aggiornato non l'ho aggiornato altri aggiornamenti infatti mi si pianta mi si ferma sono bloccato ecco pagine per argomento con sezione drive dedicate dove tutti i miei contenuti sono in drive senza nessun problema avere casistiche rapide a portata di mano presso i clienti quindi un set di che non è solo il catalogo ma un set di situazioni che posso usare presso il cliente come faccio ad averle già sotto mano sezione casistiche con delle pagine fatte per tipologia di contenuto in base a quello che io sto andando a proporre quando vado dal cliente non vado a navigare chissà dove vado lì clicco me lo sono già un po' preparato e vado allora qual è la differenza rispetto all'uso di quello che tanti di noi insomma siamo abituati a usare poi ognuno al proprio mondo i preferiti del browser le directory gli evernote di turno altre soluzioni che ci sono le possiamo continuare a usare non c'è nessun problema ma possiamo facendo costruendo qualcosa di un po' più personalizzato e dedicato adotto la mia organizzazione degli spazi non mi fermo ai preferiti o altri schemi leggo gli strumenti che uso con i contenuti che voglio usare posso collegare una pagina con il filmato che devo che devo che devo andare a presentare ma anche con lo strumento che mi serve per fare degli interventi non solo delle presentazioni già pronto ho un'unica interfaccia di fatto quella che io ho bisogno e sulla quale mi trovo bene a lavorare ho tutto online questo non è da sottovalutare adesso vabbè a livello italiano non sempre la connettività è diciamo gioca a favore quindi possiamo trovarci in zone a volte poco coperte ma o mai anche a livello mobile insomma più o meno si arriva dappertutto e è importante lo cambio quando voglio e quando mi serve quando cambia il mio set quando non mi piace più questa cosa quando organizzo in modo diverso il mio lavoro lo posso cambiare allora andando un attimo oltre è semplice io dico di sì adesso magari sono uno che ci lavora sopra ma vi posso assicurare che a chi ha cominciato a usare anche questo tipo di strumenti superata la prima fase di oddio di cosa stiamo parlando si va abbastanza e quindi è necessario provare allora molto in sintesi cosa Google Sites per chi non l'avesse mai utilizzato ha il grosso vantaggio di avere tutto in una palette in questi tre immetti pagine e temi poi il grosso che viene usato è immetti e pagine contiene tutto quello che ci serve lì dentro troviamo quei pochi elementi che ci permettono di costruire un sito di fatto stiamo parlando di siti che poi sono personali riservati sotto diritti d'accesso e così via ma dove posso costruire quello che voglio voglio renderlo pubblico o privato lo posso decidere è chiaro che ha un livello di grafica che non è quella che posso fare personalizzare con altri strumenti ma è un compromesso tra semplicità di lavoro velocità e livello grafico che posso ottenere ma per quello che vogliamo fare a questo livello direi che dal mio punto di vista è più che sufficiente google drive lo conoscete molto meglio quindi archiviare condividere con gli altri ci permette di stabilire chi deve vedere certe cartelle certi percorsi unito agli diritti di accesso che diamo su sites per vedere certe pagine o certi siti a quel punto abbiamo fatto non solo la nostra rete ma abbiamo fatto quella con i nostri collaboratori con i nostri diciamo partner oppure con i nostri clienti e anche qui in pochi click sostanzialmente ci gestiamo il tutto qui stiamo usando strumenti che abbiamo allora dobbiamo aggiungere qualcosa a questa a tutto questo set io credo che in sintesi dobbiamo metterci un po' di organizzazione e quindi qui chi fa diciamo la professional organizer diciamo dice bene che se si ha un po' di organizzazione si riesce a gestire efficacemente il nostro lavoro dobbiamo cominciare a metterci un po' di organizzazione nelle cose che facciamo un pizzico di innovazione cioè andiamo fuori semplicemente dallo schema di usare il mio computer di usare quello che siamo abituati a che ci dà tranquillità anche qui usciamo un po' almeno all'inizio un po' da la comfort zone in cui ci siamo abituati ma basta un pizzico voglia di cominciare quindi in certi momenti bisogna dire ok adesso ci do un taglio e comincio a far qualcosa provo senza la paura di perdere nulla perché vado a costruire ecco l'altra cosa che suggerisco e qui mi ricollego agli aspetti di gratis che già sono stati ben evidenziati dal mio punto di vista se parliamo del mondo google un account g suite di quelli a pagamento direi che è fondamentale non per la disponibilità degli strumenti lo possiamo fare senza problemi con quello che già semplicemente la gmail diciamo ci mette a disposizione ma il mondo della g suite a canone di pagamento che poi sono diciamo 120 euro all'anno cioè non stiamo parlando di cifre di chissà che tipo mi permette di essere compliant con le normative con la privacy di avere il controllo di quello che sto facendo su quell'ambiente e non è un ambiente cloud pubblico quindi diciamo i dati che io metto là dentro non sono scansionati da tutti i motori che vanno a vedere cosa c'è dentro per mandarmi pubblicità o fare analisi di sono dati riservati miei questo già diciamo l'intervento l'anno scorso lo citavo ecco e ci tengo a riprecisarlo in ambiente professionale valutate bene non ci guadagno niente da google su questa cosa però dico da un punto di vista di sicurezza vostra e di trattamento del dato è bene che questa cosa la consideriate allora concludo con una proposta anche che è questa dall'anno scorso nel sempre in quel sondaggio che è stato fatto è emerso che a domande che erano state poste il 75% nelle due forme molto elevate e abbastanza vuole fare rete ritiene che sia importante fare rete tra freelance per scambiare contenuti che siano di utilità comune sostanzialmente all'interno del mondo dei freelance allora qui lancio questa proposta se siete interessati alla costruzione di uno spazio peer to peer quindi dove si può stabilire anche ognuno di noi può stabilire chi deve vedere quei dati o quei documenti che metto eccetera costruire una rete dove possiamo mettere dentro le informazioni che riteniamo di utilità comune quindi diciamo per avere questo ambiente di scambio allora dico questa cosa si può realizzare si può realizzare anche senza costi iniziali perché basta un account google diciamo di quelli a pagamento e si può iniziare a fare allora è necessario però che si sappiano quali sono le esigenze i desideri diciamo o le perplessità che ognuno di noi potrebbe avere in questa cosa allora per capire se questa cosa è fattibile se c'è un interesse effettivo reale avevo messo in piedi anche un questionario che si può compilare sono 5-6 domande niente più che danno un po' un'idea di quello che si potrebbe fare come si potrebbe farlo e se c'è dell'interesse allora in tutto questo se diciamo volete fare degli approfondimenti di esempi anche di cose di come sono stati realizzati ci sono vari esempi che ho riportato collegato al mio sito insomma questo è la openlab.it Zubonet troverete anche perché l'ho chiamata Zubonet potete trovare un po' modalità esempi di perché funziona così e come e cosa potrebbe venirne fuori e all'interno lì c'è proprio un pulsantone che dice vuoi compilare il questionario per la rete freelance se ritenete lo potete compilare da lì queste informazioni le trovate anche in un pieghevole che era inserito nel materiale che vi è stato consegnato quindi diciamo in mancanza di questa informazione la trovate con sotto il materiale Robin Lab io ho concluso vi ringrazio grazie grazie a tutti grazie a tutti